Qual è la sindrome renale? La sindrome renale è una condizione medica che coinvolge i reni, caratterizzate da insufficienza renale o insufficienza renale che fa sì che un paziente diventi molto malato. Un certo numero di condizioni mediche sono state collegate allo sviluppo di questa condizione, ed è spesso vista come una comorbilità, il che significa che accade contemporaneamente ad un'altra malattia. Il trattamento della sindrome renale si basa sull'individuazione della causa e sul suo indirizzamento, stabilizzando la funzione renale del paziente con misure come farmacia e dialisi. I sintomi di problemi renali possono includere ritenzione di urina, un bisogno urgente di urinare, urina frequente, sete, ritenzione di liquidi, minzione dolorosa, cambiamenti nella composizione delle urine e dolore addominale. Quando i problemi di affitto sono una comorbilità, a volte è difficile per un medico diagnosticare e trattare il paziente in modo accurato, poiché il medico potrebbe non aspettarsi di vedere due malattie contemporaneamente. Una forma di sindrome renale si verifica nella febbre emorragica con sindrome renale, HFRS, una condizione in cui un'infezione virale causa febbre emorragica e il paziente sviluppa anche problemi renali. Questa condizione legata agli antivirus, che sono tipicamente catturati dall'esposizione a roditori portatori di malattie. Il trattamento per la condizione può variare a seconda del virus responsabile e il paziente può sviluppare insufficienza renale. Nella sindrome polmonare renale, un'infiammazione dei reni è associata a problemi polmonari. Questa condizione è associata ad alcune malattie autoimmuni e i ricercatori hanno notato che la presentazione di questa condizione in un paziente può aiutare a restringere la determinazione di quale condizione autoimmune sia responsabile della cattiva salute del paziente. Affrontare la sindrome in questo caso implica trattare o gestire la condizione autoimmune e monitorare la funzionalità renale e polmonare per i segni di complicanze in via di sviluppo. Una condizione genetica, la sindrome branchio-otorenale, comporta anche un'interruzione della funzione renale. I pazienti con questa condizione hanno malformazioni alle orecchie, al collo e ai reni e possono sviluppare insufficienza renale o insufficienza renale. Come altre condizioni genetiche, questa condizione può manifestarsi in vari gradi di gravità. Richiede la gestione e il trattamento a vita. Le persone con malattie del fegato possono anche sperimentare la sindrome renale. Nelle persone con malattia epatica grave o allo stadio terminale, la sindrome epatorenale può svilupparsi. Questa condizione comporta un fallimento di entrambi i reni e il fegato. Le opzioni di trattamento possono variare a seconda della causa dell'insufficienza epatica, ma possono includere la necessità di trapianto. Fino a quando non saranno disponibili gli organi donatori, potranno essere utilizzate varie tecniche mediche per gestire il paziente e mantenerlo stabile.